Sul sito di SkyTG24 il test delle elezioni per chi voto. 15 domande e alla fine saprete quale partito è più vicino alle vostre idee. Noi siamo stati in giro per la Capitale. Gianluca. Quanti anni ha? 46. Professione? Barista. Roberto. Età? 48. Professione? Impiegato. Roberto. Quanti anni ha? 66. Professione? Artigiano. Sergio. Età? Eh non me lo ricordo. Professione? Medico. Iniziamo allora. Non è tanto favorevole all'Euro? Insomma, per chi ha vissuto la lira no. Allora ho visto che sulla domanda dell'Europa ha dato un 5 convinto. Come mai? Beh assolutamente sì, io sono stato studente Erasmus quindi per me l'Europa è stata assolutamente fondamentale perché mi ha dato l'opportunità di potermi formare all'estero. a spese dell'Unione Europea. Dentro casa mia devo andare anche sparando se posso, certo. Vedo che su questa domanda le ha dato una risposta netta. Netta. Netta, come mai? Inequivocabile perché lo ritengo un atto di difesa legalitario. La violazione della proprietà privata la difendo. Assolutamente no. Allora vediamo un po' che il suo risultato, lei è tra gli arrabbiati, davvero? Molto. Come mai? E' perché l'Italia non va come dovrebbe andare. Questo è il risultato del test, lei si riscontra in questo? Credo che disprezzare la politica a prescindere sia un elemento che può determinare tanti passi indietro del nostro paese. Quindi credo che la politica vada criticata, appungolata ma non a prescindere sulle cose vere. Si riscontra tra i moderati. E per quanto riguarda i partiti invece? Non mi riscontro in nessuno dei due. Non si riscontra in nessuno dei due? Sì, mi raffiguro in questo schema. Quindi il risultato di questo test è attendibile soprattutto per quanto riguarda il partito politico indietro. Esatto. Federico Sisimbro, Sky TG24